Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo in una mappa della Corsi Lucky Block, vedete ho un cuore in più rispetto agli altri e guardate le impostazioni ho soltanto questa sezione. Perché siamo nella nuova versione? Sì, ma che c'entra? Non vuol dire che abbiamo un cuore. Io voglio andare con quello rosso. Io con quello blu. Io ho 32 di blocchi. I Lucky Block dobbiamo scavare! Ah! Wither mi ha scavato! Oh no! Un Lucky Block mi ha impricionato! Guarda! Aia! Dove sono? Io sono dentro all'alto. Io pure! Io prendo il bottone. Oh! C'è Wither! Aiuto! Sta perdendo vita Wither! La mia strada è esplosa! Sto volando! Aia! Ho sbagliato, ho sbagliato, sono andato nella strada sbagliata. Io sono volato. Ari, ora che sono morto mi ha regalato. Perché sono a livello 10? Ari, ora che sono morto mi ha dato 10? Ari, ma io non posso più passare! Come faccio? Allora... Come faccio ora per guidare a strada sbagliata? Mi ammazziti! Ah! Devo volare! Volare! Aiuto io! Cado, 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 cado! No, 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 no! BASTA! Sto andando avanti! Improvvisamente è diventato giorno! Ecco, io sono morto! bello! Ai! Ma è una corsa di Lucky Book che piena di sorprese! Ai, infatti a me mi ha giusto mentre mi deve dare le fiamme! a me mi ha regalato tante cose! Slowness per mille! Slowness per mille, due uova di cavallo, una sella, un secchio d'acqua e un secchio di lando! è la levitazione! Aia, aia! 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 Io, ragazzi, sto entrando di nuovo perché... Oh, perché ho ricevuto altri blocchi di calcio e struccio? No! 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 Ah, io posso andare! Puoi scegliere quello che vuoi! Oh! Mi ha dato delle pozzine! Bene, bene, bene! Mi possono servire! Pozzine di rapidità! Sì! Vabbè, però... Non vorrei spiegare! Da come fai... Stavo facendo un mini parkour quando ho fai la... Neanche... Dov'è il puzza? Ah, ecco! Ah! Madonna, che cos'è sta mappa? Oh! Ci sono tante belle e una sella di ferro! Devo dire una... Barbatura! Allora, ragazzi, come vi sto dicendo, devo fare sto parkour! Impossibile! Ma io li posso spaccare i blocchi! Semmi in sopravvivenza! Ah! Ah! Che è che urli così? Stavo andando... Samu! Oh! Ho fatto il parkour! Non ci posso credere! Samu! Tu non hai... Ah! Perché sono dentro una casa? Ah! Mi ha regalato una casa esplosiva! Non ce l'ho aperta... C'è stato chat! Noi non ci muoviamo più da qua! Ahia! Ahia! C'è la mia casa esplosa! Dobbiamo ammazzare esplosito! Oh! Ho capito! I blocchi di calcestruzzo che ci dà! Servono! Per ricostruire! Così noi possiamo passare! Non è tutta ora! Sì! Perché non lo sapevo che eravamo in sopravvivenza! Non l'avevo! Non l'avevo! Ho fatto! Io vado nel percorso! Posso continuare la mia mappa! Ogni volta che... Oh no! Sono dentro una gabbia! Mi ha ucciso! E non avevo manco piazzato io! Dov'è il pulsante? Ma mi appare sempre! Ma perché? Oddio! Mi sono ucciso! Secondo me il creatore della mappa c'è tutto questo cuore in più! C'è tutto questo cuore in più per... Come hai fatto ad andare avanti? Perché ho montato cose! Siamo... Ah dai... No! Io vado nel percorso! E te... Ci sono io! Ah! Ecco! Arrivedi che il mio... La mia fila è la più pazza! Mi dà prigioni, case esplosive... Ti... Ti... Ti ti conto! Ha più cose pazze! Prigio della tua! Grazie! Attenti da solo... Ci hai sentito? Mi sono andata alla fine in quello verde! Hai letto l'esplosio... L'esplosione... Sono esploso perché... Basta! Ma mi vado a liberare! Ah! Un guardiano! Aiuto! I sui... I suoi raggirassarmi uccideranno! Aia! Ma quanto toglie! Perché sono qua! Oh! Ma perché mi appare sempre davanti? Questo è pizza! Basta! Questo guardiano cerca di ucciderli! Ma perché sono lentissimo! Perché ho la lentezza! Vado troppo lento! No 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 no! Vado lentissimo! Vado lentissimo! Ah! C'è sta! C'è sta! Il guardiano... La mia... Ah! Perché? Perché ho la corsa blu che è la più pazza! Io ho la corsa blu che è la più pazza! Mi ha regalato una casa esposiva e un regalo! Ah! Che cavolo è successo! Mi ero inchiuso nel vento! Che cavolo è successo! Ma perché mi dà che sono grigi? I veti grigi? Ah! Dai! Muoviti! Ah! Ma perché è caduta lava? Ah! Lucia! Ma aspetta! Ma noi possiamo fare questo? Perché tu stai muovendo io! No! Perché io almeno muoio ma... Un cartello? Ah! Mi ha dato un cristallo ed sono morto per l'esposione! Enzi questa mappa è pazzissima! Ma poi non so che ho dato un livello trenta! Io sarò vento! Ah! Finalmente ce l'hai fatta! Io... Ti giuro che la mia corsa è la più pazza! Cioè mi ha regalato una casa esplosiva! Poi mi ha... Poi mi ha... Io... Perché ho cliccato quel cartello? Perché l'ho fatto? Che mi aveva regalato una... Una... Un cristallo... Che esplodeva istantaneamente! Appena... Appena l'ho cliccato quel cartello! Ma no! Non mi fa spaccare più! All'intento i lucky block diventano grigi! Sì! Per non farsi riaprire! Perché dobbiamo vedere la pozione che ci darà! Oh mio Dò! Dai! Guarda che cosa mi ha dato! Guarda la mia scarpa! A me tutti i lucky block non mi hanno dato niente finora! Dammi il latte! No! Un blaze! Per culo! Ah! Sono salvo! Questo là che i blocchi non mi hanno dato niente! Perché ho messo un blocchi! Ah! Chi è esploso! Perché ci sono i blaze infuocati! Io sto andando... Ah! Una TNT mi ha regalato! Ok grazie! Mi ha regalato una TNT senza motivo! Cioè... E non è esploso! So! Da me non mi dà niente! E anche a me finora non mi sta dando niente! Sì proprio! Ti ha dato una prigione! Io sono in... Sono in un pozzo! So! Ma guarda! Visto che io sto camminando... Sto camminando! A me mi ha dato... Mi ha dato un pozzo! Bassissimo! In cui io potevo risalire! Che cavolo! Me l'ho costruito 600 fulmini! Ah ma... Ari guarda com'è! Mi sono asciugato così... Con la mia tecnica! Non mi muore! Ari sono arrivato... Sono in un pozzo di guerra! Anch'io ero arrivato... E tu sei cantato sul mondo! Aia! Ah! 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 Mi ha spinto su! Su! No! No! Mi rifiuto di... Mh! Per me! Oh! Ma... Perché... Ma l'hai cambiata! Aria ogni volta che... Qua è piena di zombie! Qua è piena di zombie! Qui ho... Sa! Sa! Aspetta! Sono cieco! Sono cieco... Sono cieco! Anzi! Anzi! Aspetta! Aiuto! Hai! 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 Naaah, che sta mappa cos'è! Ma che cos'è! ma perché sono sempre qua io ho spaccato l'ultimo lucky block ora basta tornare alla fine ho vinto la mappa se però sti zombie mi spingono mi lanciano fino allo spazio vabbè sto esagerando che mandano fino allo spazio ragazzi ho l'inventario pienissimo perché mi ha regalato cose pure tu sei tornato dove ti era caduto a me il pozzo questi zombie però perché mi uccido malissimo ma tolgono tanti ho vinto ragazzi ho vinto mondiale pure io lobby non ho vinto ho vinto io vinto ma da me c'erano gli zombie vabbè ragazzi ci sono partite infinite è ricominciato tutto da capo tutto distrutto vabbè spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto anche la mappa lasciate un like assolutamente vi lasciamo forse la mappa in descrizione da me è samuele è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao pam 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 ciao 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 Grazie.